Musica Mi sono svegliata con un nuovo membro della family Guardate cosa mi è uscito Inizia proprio bene questa giornata Musica Yo 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 crazy people bentornati sul mio canale Il mio nome è Didi e vi do il benvenuto a questo nuovo vlog Sono alle 8.34 Queste è Kate Winslet Devo truccarmi Come state? Come andiamo? Come va? Spero tutto bene Ragazzi questa mattina mi sono svegliata Me lo sentivo ieri ve l'avevo detto Ve lo avevo fatto vedere questo brufolo che chiameremo John Questo John è da coprire immediatamente Ma ho male e ho provato a farlo esplodere Ma non è che mi abbia dato troppe soddisfazioni Mi ha fatto solamente molto male a me Perché ci devono essere i brufoli? Perché non è che mi fanno capire qualcosa Perché non è che io abbia mangiato male in questi giorni Preciclo Fucking great Anzi devo cercare dei metodi per farmi ritardare il ciclo Perché lunedì non posso avere il ciclo O comunque c'è sì posso avere il ciclo Però sarebbe meglio non avercelo Grazie mille E ovviamente secondo voi quando è che mi deve venire il ciclo? Diciamolo tutti insieme Lunedì Ovvio no? Già avendo coperto John mi sento un po' meglio Allora la giornata di ieri è stata abbastanza intensa E sono molto contenta di iniziare una nuova giornata oggi Non che la giornata di oggi sia meno stressante di quella di ieri Perché secondo me la giornata di oggi sarà ancora più stressante di quella di ieri Perché come vi dicevo ieri Se voglio dire un'altra volta la parola ieri Ho lezione di recitazione Lo potete capire ormai dal mio outfit Se sono vestita tutta di nero Significa che abbiamo proprio lezione di recitazione Mamma mia che male sto brufolo Cioè che dolore E dopo la mia lezione di recitazione Che mi durerà tutta la mattina Dalla mia accademia parto per andare ad un appuntamento A un appuntamento romantico Dall'altra parte praticamente di Roma Quindi ci aspetterà una bella giornata Allora rispetto a ieri mi sono svegliata un po' presto Perché ieri sono arrivata in orario Però per come sono fatta io Mi sentivo in ritardo ieri Quindi oggi preferisco partire prima Così almeno mi dà il tempo di prendermi il mio coffee Alle macchinette Infatti secondo me la giornata di ieri è stata un po' strana Perché non ho preso il caffè Infatti stamattina l'ho bevuto E sto molto meglio Ma mi capirete Perché se anche voi siete proprio dei coffee addict Mi capirete Ci aspetta una giornata un po' intensa Però sono contenta Perché almeno con la scusa che ho a questo appuntamento Approfitto per tornare un pezzo a piedi Perché devo andare a vedere alcuni negozi Perché ieri non ho trovato niente Ieri è stata proprio una giornata Ciao vai Vado un po' per negozi Quindi approfitterò per fare un po' un giretto Oh raga cosa mi raccontate di bello? Parliamo solo di cose belle nei commenti Almeno ci possiamo tirare su di morale a vicenda Parla quella che ha avuto il mental breakdown yesterday Quanto fa ridere che alla mattina ci svegliamo Abbiamo tipo la faccia gonfia Come un pallonzino Ah sapete cosa devo fare? A proposito di recitazione Devo togliermi gli orecchini Devo togliermi gli anelli Devo togliermi gli orecchini Perché se poi facciamo qualche esercizio Qualcuno per sbaglio mi stacca l'orecchio Ho gli orecchini che non rendono questa cosa molto facile Raga ma cosa ne pensiamo delle canzoni di Natale? Di solito a novembre io ascolto tutte le canzoni di Natale Infatti magari oggi me le scarico Ah ieri raga sono riuscita ad andare a letto presto Sono molto fiera e orgogliosa di me Perché ieri avevo proprio bisogno di andarmene Come i bambini a nanna Sono molto più riposata Devo iniziare a cambiare un po' Mi sembra che ogni volta che faccio i vlog Comunque abbiamo questa conversazione Perché anche in quarantena io continuavo a dire Che andavo a letto stra tardi Però vabbè la quarantena è stata un momento Un momento un po' strano per tutti Non mi sono reso conto che andare a letto presto Comunque mi ha aiutato Questa mattina mi sono svegliata Da quando io ho fatto la lezione di edizione Ho ripetuto per tipo un minuto Tre tigri contro tre tigri Devo svegliare la macchina e ripetere le parole Che tipo non so pronunciare Ci pettiniamo E andiamo Ah no devo togliermi gli orecchini Non so quante persone ogni volta mi chiedono Di questi orecchini E capisco perché sono molto belli Me li hanno trovati i miei senatori Per la laurea Li hanno presi proprio in una gioielleria In Soca Verona Poi questo qua pendente È stato il regalo di mia zia L'ha preso in una gioielleria Sul lago Questo qua essendo un piercing Non ho intenzione di togliermelo Questo qua è quello che mi ero fatta Quest'estate al lago Poi questo qua l'ho preso in un negozietto In Pia Vigevano a Milano E questo qua vabbè raga È un piercing e non me lo tolgo Ma neanche questo mi tolgo Non è troppo ingombrante Adesso è un momento critico E dovete capire che da questa parte Della telecamera Tante volte Cioè io vi giuro queste informazioni Le avrò dette un casino di volte Tra l'altro mi fa ridere Quando le crazy people Che sono con me da un sacco di tempo Rispondono per me I commenti delle altre persone Che poi capisco Cioè nel senso Quando magari inizia a seguirmi qualcuno Of course Like thank you so much Non è che si va a vedere tutti i video È chiaro È più facile alle volte chiedere Ottima dove hai preso gli anelli Sono tutti un regalo di mia nonna Quindi sono una cosa originale E unica Adesso che ho le unghie lunghe Cioè la mia mano mi piace di più Raga non sono più io Mi sono portata a quest'altra busta Dove ho messo dentro i trucchi Il deodorante Perché mi cambierò in bagno Senza anelli È una vita troppo difficile Sì perché oggi Dalla scuola vado direttamente In zona Ponte Milvio Credo Verso il nord Quindi mi sono portata Tipo una maglietta di ricambio Nel caso dovessi puzzare questa Perché io non so come Esco dalla lezione di recitazione Perché ci sono talmente Tante emozioni in ballo Che alle volte è scoprezzata Insomma You never know È un disagio Narciso Rodriguez Tutta la vita Anzi Narciso Rodriguez Grazie Se vuoi sponsorizzarmi Ok raga Gli ultimi video si può capire Che sono un po' una basic bitch Ve l'ho sempre detto Non è che c'è da capirla Mi canta perché Vabbè Sul nero si va sempre Sul tranquillo Sono pronta Telefono I miei due euro Per il caffè E mi prenderò anche l'acqua Oggi Ci vediamo post lezione La Didi del futuro Vi racconterà tutto Insomma Speriamo vada bene Questa giornata Quindi I will talk to you guys In a little bit Bye Speriamo vada bene Speriamo vada bene Speriamo vada bene Speriamo vada bene Raga Era da tanto tempo Che non camminavo così tanto Sono pezzata Puzzo di morte Questo brufolo John Mi fa un male Un attimo che mi ripiglio Praticamente Cioè se questo è il mio piede Avevo il calzino qua E tutto il piede è scoperto Io come faccio ad editare No Me lo sto chiedendo Ci sono le 7 Vorrei farvi sentire la mia schiena Vediamo se riesco a scrocchiarla Collettivo Silenzio Raga Raga sono riuscita ad esplodere John Però come Meredith Grey Grey's Anatomy Che al posto di far vedere Che lei aveva un brufolo Si è messa il cerotto Questa cosa è imbarazzante Quindi preferisco che voi vediate Il mio cerotto Piuttosto che John Perché John Non è proprio carino In questo momento È meglio non vederlo Parto dicendo che sono stanca Quindi ho paura Di quello che dirò Perché possono uscire Tante cavolate La giornata di oggi Ero convinta Mi sono pure portata dietro La telecamera Perché Oddio sono fuori Cioè magari riesco a filmare Raga è stata una giornata Molto full Non ho ancora fatto a tempo Rispondere ai commenti Dell'ultimo video Risponderò dopo Dopo Poi dopo Ci si mette pure l'addizione Non so se voi conoscete Roma Allora io sono partita da Cirecittà Dovevo arrivare Tipo qua sopra Ok Quindi da Cirecittà Che era Zara In via del corso Ci ho messo Tipo un'ora Sono stata al telefono Con un mio amico Per fortuna Quindi Andrew Shout out to you Oggi sono andata da Zara E ho trovato un outfit E questa cosa La mettiamo un attimo da parte Stamattina La lezione è andata benissimo Abbiamo avuto lezioni di recitazione Mi è piaciuta Mi è piaciuta comunque tanto Sono ancora molto Molto entusiasta E questa settimana A livello di lezioni È andata veramente Veramente molto bene E soprattutto Oddio Potrei addormentarmi Andiamo quanti passi ho fatto oggi 19.607 passi Vi faccio vedere l'outfit Ho comprato questo toppettino Scusate se vedete il reggipuppe Ma Whatever Sembra che io abbia le puppe giga Ma perché sono in fase preciclo Non ci facciamo ingannare E poi ho comprato questa giacca La amo Alla follia Questi sono i miei acquisti di oggi Sono molto molto entusiasta Quindi Yes Ho passato l'ultima ora A fare le insta story Perché oggi mi è successa Anche una bellissima cosa Oggi è uscito il video Di una mia cara amica Dico cara amica Perché questa ragazza È americana Anche lei fa youtube Ve lo giuro Io sono fan Dei suoi video Dal 2016 Questa ragazza si chiama Anora È un nome un po' particolare Spero di pronunciarlo giusto Fa video sull'università Frequenta la NYU Long story short Oltre al fatto che lei Cioè io avevo iniziato a seguirla Proprio perché nei suoi video Fa vedere la vita di New York Lei ha preso una pausa Da youtube Ma è tornata Un paio di mesi fa Quando è tornata sul tubo Io impazzita Perché da una parte Con la scusa Che sì Ero iscritta al suo canale E non aveva più fatto video Piano piano Con la scusa Che non pubblicava più Non ci ho più pensato E quindi Mi mangio le mani Ora Pensare che ero a New York E potevo tranquillamente Scriverle Della serie Dummy dummy Comunque Le ho commentato Un video Del suo Coming back on youtube Oddio sono stracontenta Non puoi capire Che bello Cioè ti seguo da una vita E lei mi ha risposto Ha visto che anche io facevo youtube Ci siamo seguite su instagram Ci siamo iniziate a scrivere su instagram Tra l'altro Momento imbarazzante Perché avevo scritto Un dm nel 2016 Cioè che mi ero completamente Scordata e dimenticata Però whatever E niente raga Mi ha chiesto Due settimane fa Di fare una sottospecie di Non dico collaborazione Però più o meno da lontano Perché lei mi ha chiesto Se volesse far parte Del suo prossimo video Perché voleva parlare Dell'università E voleva chiedere ai suoi amici Insomma quali fossero per loro Degli starting tips Quindi dei consigli Per studiare meglio Metodo di studio Bla 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 E io ho inviato il mio Non parlo neanche un minuto Parlerò tipo 40 secondi Però mi fa molto strano Essere stata inserita In un suo video Che questa ragazza Veramente la seguo da una vita Chi l'avrebbe mai detto La vita è proprio bella Sotto questo punto di vista E soprattutto Voglio Oh mio dio Oh mio dio Non so quante volte Sarò stata interrotta Da un'ambulanza Che per carità Mi dispiace Però Jesus Quindi niente Long story short Se avete voglia Di vedere quel video Non parlo in inglese Però se siete curiosi Di vedermi Vi linko il video qua sotto Altrimenti Se mi sono dimenticata Siete in tempo Ad andare su Instagram Perché ho messo il link Ok ragazzi Ho veramente bisogno di mangiare Perché mi sono anche resa conto Che nella fretta Il mio pranzo di oggi È stata una mela Mi ero portata dei cracker Ma non li ho mangiati Perché avevo l'ansia Di non usare la mascherina Quindi mi sono dimenticata E quindi ho molta fame Quindi vado a mangiare Io chiudo il video qua Perché non sopporto più la mia voce Ed è una cosa molto negativa Dal momento che mi devo editare Tutta sera Quindi niente raga Io vi mando un bacio Domani è finalmente il weekend Ma sarà un weekend bello full Quindi amazing Io e il mio amico John Vi mandiamo un saluto da Roma E vi salutiamo con una Thank you guys for watching And see you guys tomorrow I love you Bye bitches Ciao 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 Ciao